la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani vediamo le notizie riportate sul mattino dalla prima pagina del mattino nazionale si parla del referendum che più regioni hanno proposto per l'abolizione del decreto della legge sblocca Italia arriva l'inchiesta del quotidiano il mattino soprattutto le regioni si riferiscono agli articoli relativi alle estrazioni petrolifere vediamo l'inchiesta presentata dal mattino con il titolo energia, il muro che isola il sud regioni in campo contro le trive e le azioni il ministero dello sviluppo così andiamo indietro di 20 anni dietro la battaglia per il referendum l'ultimo scontro politico all'interno del PD andiamo avanti con gli articoli correlati perché poi il tema sarà ampiamente trattato nelle pagine di primo piano del quotidiano il mattino per il caso contratti il no dei sindacati squinzi sono fuori dalla realtà e poi l'analisi di salari la palla passa al governo continuiamo per il commento se la posta in gioco è il futuro stiamo di taglio alto il personaggio in questi giorni si parla tanto di insignia dopo la doppietta realizzata nella gara contro il Milan decisiva insieme anche al gol di Allan per la grande vittoria contro la squadra di Mijailovic e vediamo oggi in signa ieri è arrivato a Coverciano convocato in nazionale le sue parole in conferenza stampa quei fischi mi hanno rafforzato a Napoli per sempre e poi c'è il dibattito ormai negli ultimi giorni negli ultimi mesi si vorrebbe assegnare a insignia la maglia numero 10 ricordiamo da Napoli tolta dopo il passaggio di Maradona e quindi resta a Maradona ma vediamo il dibattito ma la 10 è ancora di Diego e lasciamo questo tema andiamo a centropagina nelle fotonotizie l'incidente stradale in cui ha perso la vita una giovane ragazza di 20 anni vediamo a Monte di Procida la vittima a 20 anni mamma se è destino morirò e precipita con l'auto nel burrone e poi ad Aversa invece travolta da un pirata della strada uno sciacallo ruba la borsetta un'infermiera uccisa mentre va al lavoro di spalla la polemica Pinotti Isis Raid allo studio ma è scontro e poi il punto prova di fedeltà in chiave anti Putin vediamo come chiude questa prima pagina del mattino nazionale il prete shock giustifico la pedofilia sospeso il sacerdote che ha detto in tv i bambini cercano affetto è ancora cancellata la vergogna di via Azzariti la strada intitolata al giudice fascista sarà dedicata ad una bimba ebrea il caso letterario Elena Ferrante ritrova l'identità sul vocabolario questa è la prima pagina del mattino nazionale in edicola andiamo ora sulle pagine di primo piano e parliamo proprio del caso del referendum proposto da diverse regioni contro lo sblocca Italia il titolo Trivelle scontro al sud ma tra tasse e proteste la ripresa rischia lo stop il paese continua a dipendere dall'estero mentre torna lo spettro del referendum vediamo una parte dell'articolo e men che meno sono coloro che ricordano la puntualità della legislazione italiana in materia una delle più rigide a livello europeo nata proprio per evitare scempi e degrado che hanno purtroppo segnato scempi e degrado in tanti troppi territori e non solo nel mezzogiorno la posta in palio è più complessa ma non per questo trascurabile piaccia o no è il futuro della politica energetica italiana e di conseguenza delle stesse prospettive di crescita di un paese che continua ad essere dipendente dal punto di vista delle forniture di gas ed energia per oltre il 50% dall'estero e poi vediamo la mappa della dipendenza energetica dell'Unione Europea come vediamo per il 75% per oltre il 75% c'è l'Italia e anche altri e pochi altri paesi dell'Europa andiamo avanti sempre su questo tema la fattura vediamo l'Italia ha pagato anche nel 2014 una cifra salata per l'approvvigionamento energetico ben 45 miliardi un costo pesantissimo per un paese in ritardo il salasso i costi per il sistema produttivo e di convergenza per le famiglie e di conseguenza per le famiglie sono tra i più alti in assoluto dell'Unione Europea i paesi confinanti spendono decisamente meno lasciamo questa pagina andiamo sulla pagina successiva vediamo l'intervento del Ministero dello Sviluppo la scelta energia e regioni i referendum ci farebbero tornare indietro a 20 anni fa Terlitzese direttore alle risorse minerarie dal Ministero più garanzie ambientali l'ingegnere Franco Terlitzese il direttore generale del settore risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo economico e lui il dirigente ministeriale che si occupa di energia petrolifera concessione alle compagnie e produzioni di gas e greggio e poi c'è l'intervista vediamo alcuni passaggi le trivelle che affronta le spese per la ricerca sia anche beneficiario dei guadagni successivi e poi i tempi su gas e greggio un controllo centralizzato scongiura inefficienze e ritardi andiamo avanti le tariffe luce gas meno cari ma il fisco incide per il 37% sulle bollette lasciamo questo tema che vi ricordo è ampiamente trattato dalle pagine del quotidiano il mattino ora andiamo invece sul mattino di Salerno siamo ad ottobre si inizia già a parlare delle luci d'artista l'evento che per due mesi porta a Salerno un gran numero di turisti proprio per ammirare le luminarie realizzate in occasione del Natale e si parla già anche per quanto riguarda il piano traffico e aumentano le spese per chi parcheggia alla Rechia almeno questo è l'idea vediamo infatti il titolo luci d'artista stangata per i bus più cara la sosta nei parcheggi della Rechia di via Ligea aumenti fino a 30 euro scatta il piano traffico per frenare l'assalto dei pullman gran turismo nei weekend così evitiamo il caos continuiamo il caso di Salerno mobilità mille domande per 25 posti più di mille domande per soli 25 posti disponibili è scaduto a mezzanotte il termine ultimo per un posto part time a Salerno mobilità andiamo di spalla la politica no primaria alleati in rivolta dopo il diktat di forza Italia per la scelta del candidato sindaco a Salerno per le notizie di fondo la cultura ravello fest risico nomine spunta cioffi mentre per la sanità svolta all'aslo ok ai contratti per 62 precari e poi la scoperta nel cilento pesci vecchi 100 milioni di anni importanti ritrovamenti fossiliferi risalenti anche a 100 milioni di anni fa saranno esposti presso il museo paleontologico in occasione della settimana del pianeta terra si tratta di testimonianze fossili di piante crostacee i pesci e tetraprodi ritrovati in tre nuovi giacimenti individuati nel territorio del Cilento e Vallo di Diano nell'ambito di un'intensa attività di ricerca che va avanti da circa un trentennio continuiamo sempre a centro pagina buco nelle parrocchie mancano 150 mila euro bufera nelle diocesi di Nocera inferiore e Sarno il bilancio mercato ortofrutte caccia ai morosi e lo scontro strisce blu a Eboli la guerra dei vigili sempre sulla prima pagina del mattino di Salerno vediamo come chiude il sogno dei salernitani tre vani con vista mare da Pastena a Torrione i costi delle case questa è la prima pagina dedicata a Salerno andiamo ora sulle pagine di primo piano si parla di luci d'artista lo abbiamo visto nel titolo di apertura per Salerno vediamo luci estangata rincara la sosta per i bus turistici Arecchi e Ligea aumenti fino a 30 euro tariffa di 150 euro nell'area vinci prova la strategia parking con sconti fino a giovedì così evitiamo il caos luci d'artista più care per le comitive di turisti del fine settimana rincari pesanti per gli accessi e parcheggi dei pullman Gran Turismo che si riverseranno nella City per ammirare le installazioni di arte luminosa giunte ormai alla decima edizione dal 7 novembre scatteranno aumenti di tariffe per i bus privati che usufruiranno delle aree automatizzate del parcheggio comunale e quanto contenuto nel piano mobilità programmato dal comune per luci d'artista andiamo di taglio basso l'intervista servono tariffe pionerose solo così migliora il turismo la gente di viaggi Vitolo avverte l'evento è ormai consolidato bisogna puntare alla qualità l'accoglienza grandi masse di visitatori creano solo caos ora è necessaria la selezione poi il nodo spazi, davette e bagni pubblici sono contati più di così non è possibile lasciamo questa pagina andiamo ora sulle pagine del Cilento e del Vallo di Diano vediamo le notizie che interessano il nostro territorio a buon abitacolo la cronaca di scarica di rifiuti speciali sequestro e tre denunce tre persone denunciate un cantiere sequestrato e sigilli anche un'area di vita a discarica due scavatori e un frantorio mobile un sequestro di circa 600 mila euro il bilancio dell'operazione eseguita dai carabinieri del posto i militari hanno denunciato tre persone per il reato di smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi e posto sotto sequestro il cantiere di una scuola lasciamo le notizie passiamo ora allo sport si parla di Salernitana dopo la sconfitta per 4 a 0 contro il Crotone nell'ultima giornata di serie B vediamo il titolo di apertura mal di gol Coda Eosepi e gli altri B come bomber in letargo centro avanti ancora secco avvio di stagione difficile non solo in casa Granata il caso a Pescara Cocco all'asciutto dopo 5 match a Modena Granorge non decolla e poi l'incognita per maniero doppietta all'esordio poi il sogno estivo di Fabiani si è fermato quindi non ci sono al momento non risultano evidenziati quindi bomber per la serie B si parla infatti proprio di questo tema andiamo sulla pagina successiva restiamo sulla Salernitana in vista del prossimo match l'intervista l'ex Fava manca una punta di peso e non avrei venduto Khalil l'ex Fava Coda si riprenderà Donnarumma paga il salto di categoria in Italia vince sempre o quasi chi ha la miglior difesa ma il problema allo stato attuale per Torrente non sono tanto gli 11 gol subiti dato tra i peggiori a livello nazionale quanto le appena tre reti realizzate da Troianiello e lasciamo anche le notizie sportive andiamo ora sulla prima pagina del quotidiano la città anche la città si occupa della decisione del comune di aumentare le tariffe per il parcheggio degli bus del gran turismo in occasione di luci d'artista vediamo infatti il titolo utilizzato dalla città la stangata delle luci d'artista sosta più cara per i bus e per 25 posti di ausiliario già mille domande questo è il titolo di apertura andiamo ora di taglio alto la giravolta dei signori del voto fuga dal centrodestra via gli esponenti forzisti che hanno più consensi il centrodestra salernitano alla resa dei conti e non solo in senso lato perché tra conferme e purazioni dell'ultimo ora e cambi di casacca la coalizione che dovrebbe essere alternativa alla dinastia dell'uchiana continua a perdere pezzi e vediamo l'intervista alla Ferrazzano qui i leader non si sporcano mai le mani andiamo a centro pagina il patrimonio edilizio catastrofe imu così le case diventano ruderi da abitazioni a ruderi sempre più case finiscono in rovina questo è quanto emerge da un'indagine del sole 24 ore di fondo Ponte Cagnano delitto autori lo stub scagione fratelli Merola per l'inchiesta abusi su bimbo ma era falso periti imputati di spalla guerra all'isis raid italiani valutiamo l'ipotesi questo per la politica estera mentre di taglio basso vediamo come chiude la prima pagina della città il personaggio il ragazzo che vendeva i biscotti Luciano Pentangelo lavora come programmatore informatico ma a Natale cambia mestiere gira l'Europa vendendo biscotti e con questa prima pagina del quotidiano la città ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto delle pagine dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa che apriamo con le pagine di Le Crona che vediamo il titolo di apertura e il geometra della truffa Salvatore Siani era stato incaricato di sanare la posizione di un immobile in via dei Greci produceva atti fasuli falsificata anche la firma del dirigente Pelosio e il logo dell'Asri professionista impegnato nei lavori della TAV andiamo avanti delitto autori scagionati in Merola non hanno sparato stub negativo pista chiusa prende quota l'ipotesi usura e poi Paolo Russo lascia il quotidiano il mattino va alla regione con De Luca a centropagina sondaggi centrodestra picco a Salerno volano i 5 stelle manovre nel PD dubbio Landolfi a Battipaglia ha scafato invece la finanza interroga due dipendenti comunali della ragioneria per i bonifici per il piano di zona e poi la cronaca ancora l'omicidio di San Marzano delitto Coppen appello due anni di sconto a Pagano mentre a Capaccio Voza perde pezzi altra città all'opposizione per il sindaco numeri risicati lasciamo questa prima pagina di Le Cronache andiamo a vedere le notizie che interessano il territorio del Vallo di Diano partiamo dalle notizie di Cronaca il furto a Polla vediamo fallisce il colpo di un deposito di Polla la refurtiva recuperata dei carabinieri e a Buonabitacolo denunciate tre persone per il lecito smaltimento dei rifiuti allarme sicurezze residenti ora hanno paura e chiedono maggiori controlli alle forze dell'ordine furto in un deposito a Polla intercettati ladri fuggono ma la refurtiva è restituita alle prime luci dell'alba di ieri i militari della compagnia di sala consiglina con l'ausilio del personale di vigilanza privata hanno intercettato un'autovettura con a bordo gli ignoti che avevano appena compiuto un furto in un deposito di articoli casalinghi nella zona industriale andiamo avanti il Vallo di Diano aspetta il giro d'Italia previste varie iniziative nella zona per il passaggio della quinta tappa a centro pagina Sassano quattro giornate dedicate alla dermatologia promosse dall'associazione Orchidea mentre a Sant'Arsenio la cultura in primo piano parte venerdì la rassegna letteraria a ottobre piovono libri il circolo Carlo Alberto 1886 e la banca Montepruno hanno presentato il calendario di interessanti occasioni culturali la rassegna è curata dal consigliere della cultura del circolo il professor Emilio Giordano è promossa dal centro per il libro e per la lettura della direzione generale per i beni librari gli istituti culturali e il diritto d'autore del ministero per i beni e le attività culturali continuiamo di spalla si tiene a Rimini le bellezze del Cilento e del Vallo di Diano la fiera del turismo le bellezze del Cilento e del Vallo di Diano la fiera del turismo di Rimini questo evento è tra i più importanti del nostro paese unitamente alla BIT di Milano il Gallo Cilento Regenerazio SRL parteciperà a TTG incontri la più importante fiera italiana del turismo mentre di taglio basso il randagismo nel Vallo di Diano il 10 ottobre esperti a confronto a Sala Consilina l'iniziativa delle associazioni locali randagismo analisi e proposte il titolo dell'incontro dibattito organizzato per sabato 10 ottobre a Sala Consilina con inizio alle ore 19 presso l'oratorio della Chiesa della Santissima Trinità e lasciamo le pagine di Le Crona che andiamo su Metropolis che apre invece con luci d'artista in primo piano e l'iniziativa del Comune vediamo l'evoluzione per le luci il Comune di Salerno vare il piano anti-caos nuovi parcheggi e più mezzi pubblici per i turisti tariffe scontate nei feriali per evitare la resta nel weekend slitterando le partite alla Rechi a centro pagina ancora a Salerno geometra falsificava permessi degli enti atti comunali di asle e soprintendenza contraffatti per sanare abusi edilizi e sempre a Salerno blitz della polizia agli esami di avvocato trovato un telefonino che registrava durante una camera di consiglio a Scafati invece di spalle i fedelissimi di Aliberti noi e il PD tutti a casa dimissioni provocazione della maggioranza ma i democrat insistono il sindaco ora lasci continuiamo con i principali argomenti per la prima pagina di Metropolis a Salerno liste d'attese a Ruggi denunce a Ortopedia a San Marzano omicidio di Capodanno sconto per l'assassino a Eboli non paga il parcheggio Massimo Cariello multato e a Pagani delitto Asis cascetta il processo a Salerno per le notizie di sport salernitana in primo piano la mamma di Nick Citro vi racconto il mio Messi e poi i tifosi festa del Salerno Club 2010 Orilia dedica a Carmando andiamo avanti con le notizie sempre di Salerno e della provincia in apertura il lucido artista in primo piano e con le nuove iniziative del comune in programmazione proprio per l'evento ormai divenuto un evento attesissimo e evento di riferimento per la Natale Salernitano vediamo caos per le luci nuovi parcheggi e mezzi pubblici il comune corre ripari per evitare maxi ingorghi in città durante il weekend dell'evento si pensa a istituire un'area di sosta marina da Rechi timori per le gare della Salernitana in programma in questo periodo e vediamo poi il piano la strategia antitraffico ridurre i costi in settimana questa l'idea dell'assessore guerra modulare le presenze dei gruppi lasciamo anche questa pagina andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie della provincia troviamo due notizie per quanto riguarda il furto a polla che abbiamo già visto sulla pagina di cronache del Salernitano raid nel negozio sorprese a rubare ladri riescono a fuggire sulla tre in seguimento lungo l'autostrada della tre Salerno Reggio Calabria all'alba di ieri mattina i carabinieri della compagnia di Salaconsiglia guidati dal capitano Emanuele Cord con l'ausilio del personale di vigilanza hanno intercettato un'auto con a bordo alcuni malviventi che avevano appena svaliggiato un deposito di articoli casalinghi a Polla mentre ad Atena Lucana scarichi regolari in un cantiere maxi sequestro da 600 mila euro azienda edile incastrata dai carabinieri tre persone neguai e sequestro di beni per 600 mila euro nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Buonabitacolo hanno denunciato tre persone per il reato di smaltimento illecito di rifiuti le due di Tedi l'interessate erano di Atena Lucana e lasciamo le pagine di Metropolis andiamo avanti andiamo a vedere quali sono i principali argomenti per la Basilicata dalla Nuova del Sud dalla prima pagina della Nuova del Sud con il titolo di apertura Potenza il teatrino continua a 16 mesi non sono bastati per varare le larghe intese Luongo fallisce De Luca va avanti da solo sul numero degli assessori non c'è accordo il sindaco nomina Vergari e Coviello Pittella e Speranza snobbati elezioni sempre più vicine andiamo avanti sempre per la politica tutto rinviato dopo il congresso del PD e carretta tuona tatticismi e pannicelli caldi aumentano la confusione si voti a maggio del 2016 per la sanità report Agenas la migrazione in un anno ci è costata 38 milioni e ancora rifiuti la discarica di Atella va avanti senza collaudo e oltre l'AIA andiamo a centropagina su De Lettra vogliamo risposte certe oggi in confindustria confronto tra aziende sindacati eni e imprese subentranti passaggio di mano della commessa e lavoratori in uscita saranno assorbiti la questione migranti nel Materano si prepara l'accoglienza a seguito della sottoscrizione dell'accordo con la regione domani riunione in prefettura per l'attuazione del piano operativo ancora a sportello sviluppo arrivano le prime assunzioni nei comuni del Poval d'Agri a 56 aziende e 2 milioni di contributi per il referendum i 5 Stelle e l'Udc non si fidano due emozioni per impegnare la regione ad avviare una campagna di informazione di taglio basso organizzativamente non va nulla il SAP boccia il carcere di Matera e poi cinema ritrovato pellicole ed altri tempi a soli 2 euro per lo sport Lega Pro Dionigi e Sonorato il Matera si affida a Padalino nella Serie D invece il presidente Vertolomo ottimista potenza destinato al top queste le notizie di La Nuova del Sud con cui chiudiamo la nostra rassegna stampa vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con l'informazione di Uno TV grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata a ero a a a a